Siamo al segno della Vergine, per voi amici della Vergine questa è una luna che transita nel settore del cielo che ha a che fare con gli impegni quotidiani, con la routine, con gli impegni anche di lavoro certo voi in questo momento siete davvero vincenti, molto efficaci in tutto quello che fate lo dice questo Mercurio, ma anche Giove il transito nel vostro segno tra non molto arriverà anche il Sole a dare manforte a questi transiti planetari ma a proposito di Mercurio bisognerà approfittare del suo transito nel vostro segno perché non durerà ancora per molto, quindi se dovete concludere degli affari prendere degli accordi, allora fatelo immediatamente anche sotto questa luna è una luna che parla proprio di possibilità, di nuove possibilità per il vostro lavoro per il vostro avvenire, quindi fatevele sfuggire mi raccomando per questa giornata l'amore può essere anche messo un po' in secondo piano andiamo al segno della bilancia